Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del nostro notiziario oggi è dedicata alla protesta a Palazzo di Città dei lavoratori della Tecra che chiedono il pagamento al momento in ritardo dello stipendio. Vediamo. Protesta dei lavoratori della raccolta dei rifiuti che lamentano il ritardo nel pagamento degli stipendi. Si sono dati appuntamento a Palazzo di Città dove hanno avuto un incontro con il sindaco Domenico Messinese e alcuni componenti della Giunta. Al fianco dei lavoratori la CGL. È stato importante oggi un incontro con il sindaco e la Giunta perché hanno assunto l'impegno di contattare subito la Tecra per assicurare non solo il saldo del mese di novembre ma un congruo acconto del mese di dicembre così entro gennaio da prenderlo tutto. Se così non dovesse essere non solo la CGL programmerà lo sciopero ma tutte le relazioni sindacali si interromperanno perché i lavoratori hanno bisogno di parole che poi si concretizzano e hanno bisogno di portare nella loro casa gli stipendi perché assicurano un servizio utile alla città e lavorano per avere la giusta retribuzione. Abbiamo raggiunto questo accordo con il sindaco e qualche altro indecato dicendo che la Tecra ci farà ora la differenza dello stipendio di quello che ci deve dare in più il 60% e speriamo che mantengono i parteggi che non succedono poi che poi il 31% ci debbano dare la differenza. Speriamo che così in modo che possiamo dire abbiamo vinto una volta magari perché non abbiamo vinto mai. Il sindaco di Gela Domenico Messinese. Abbiamo ascoltato dei problemi reali che hanno i lavoratori purtroppo certe attività di gestione alla fine cercano di essere scaricate sui lavori e questo lo vogliamo evitare. Il problema è il mancato versamento dello stipendio del mese di dicembre. Questo è dovuto sostanzialmente a dei debiti fuori bilancio dell'anno passato e di una mancanza di liquidità da parte dell'azienda che deve in ogni caso garantirlo per almeno tre mesi. Potevamo tranquillamente fare un'azione di forza perché noi siamo in regola con il pagamento fino a novembre quindi siamo oggettivamente in avanti. Intanto per capirci l'anno scorso nello stesso periodo eravamo fermi a settembre quindi siamo stati molto più precisi e puntuali. Però intanto chi è che ne piangerebbe le conseguenze sono i lavoratori e questo vogliamo evitarlo. Per questo abbiamo fatto una serie di solleciti per poter dare almeno un anticipo per consentire di pagare tutte le scadenze che ci sono anche a fine anno e che giustamente le persone si trovano senza liquidità per poterle affrontare. Tutte le fatture che non sono state pagate ad oggi perché hanno assorato il budget che era previsto, questo è un problema che qualcuno ha tentato di nascondere ma che in realtà bisogna affrontarlo proprio per evitare che i lavoratori poi ne pagano le conseguenze. Tragedia a Niscemi. È stato trovato all'interno della sua abitazione il corpo senza vita di un tredicenne. Adesso gli agenti di polizia del commissariato di Niscemi diretti dal dirigente Andrea Monaco cercano di fare chiarezza intorno alla vicenda. Non si esclude neanche l'ipotesi del suicidio. In base a quanto trapele il ragazzino sarebbe rimasto a sé turbato dopo la morte della nonna scomparsa recentemente. Per tutti però era un ragazzo sereno e molto diligente, soprattutto tre banchi di scuola. Sul posto sono arrivati i sanitari del servizio 118 e gli stessi agenti di polizia del commissariato. Il CSM revoca la delibera con cui aveva mandato come rinforzo gli uffici giudiziari di Catania in difficoltà per le tante domande di riconoscimento dello status di rifugiato dei migranti un giudice del Tribunale di Gela, Manuela Matta. Il suo trasferimento avrebbe messo a rischio tanti processi, anche quelli legati al petrolchimico. Da qui la decisione di fare marcia indietro. A disporre la revoca in prima battuta è stata la settima commissione del CSM. Lo abbiamo fatto nella prima seduta utile, spiega il Presidente Francesco Cananzi dopo aver ricevuto una nota del Presidente del Tribunale di Gela sulla qualità dei procedimenti assegnati a questo magistrato alcuni dei quali riguardano reati ambientali legati al petrolchimico. Una situazione che non era emersa nella prima fase. L'intento di quella delibera era dare una risposta più immediata possibile all'esigenza urgente posta dal legislatore. Quella cioè di rafforzare gli uffici giudiziari Catania in testa che hanno il maggior carico di lavoro legato alle richieste dei migranti in modo da velocizzare la procedura. Ora per Catania resta l'impegno a coprire quanto prima la scopertura che si è determinata con questo ripensamento. La notizia è stata battuta dall'ANSA. Le istanze di un territorio e le istanze di una città che fino a qualche anno fa poteva essere il centro dello studio universitario e adesso vede svanire un sogno ancora di più rispetto a prima a causa del mancato arrivo dei contributi da parte della provincia. Se in un primo momento dopo l'intervento del Sindaco che ha puntato sull'unità, sulla forza del gruppo su quanto sia importante l'Università per lo sviluppo economico con la riunione che si è svolta in aula consigliare tra l'altro stracolma di istituzioni, parti sociali e politica ha preso una via diversa. A fare da spartiacqua il consigliere comunale Salvatore Licata che è entrato a gamba tesa infurcando anche un singolar tensione con il Presidente della Regione una ridda di interventi tra i quali anche quello del consigliere Oscar Aiello che hanno infuocato l'atmosfera sono stati appunto i consiglieri di opposizione a fare la differenza calcando a tratti un po' la mano nei confronti delle istituzioni presenti ospiti dell'amministrazione della città tutta. Il Presidente della Regione nel suo intervento ha affermato che sono 4.000 i milioni di euro pronti per l'ex provincia valorizzare medicine di ingegneria e l'impegno preso da Crocetta. Costruire un importante impegno contrattuale forte con la core, questo ha detto Angelo Romaglio direttore del CEFPAS è stata anche l'occasione per poter parlare di altro la legge sulle province e la rivitalizzazione del centro storico attraverso l'università aprire agli atenei nazionali una delle proposte arrivate dal segretario NCD Giuseppe Rapp si è entrato nel vivo degli argomenti in corso d'opera superato il primo momento di attrito che certo non poche scintille ha fatto con un visibile imbarazzo del sindaco Giovanni Ruvolo che ha preso le distanze da taluni interventi la metodologia ha comunque prevalso anche sugli scontri prevedibili rispetto alla tipologia di incontro la prospettiva di futuro dovrebbe essere la pianificazione comune il consorzio gode di ottima salute ha detto Emilio Gianmusso presidente del consorzio stesso sono stati operati numerosi tagli ed attraverso una politica parsimoniosa l'avanzo di amministrazione è stato di un milione di euro puntare sulla partnership con il CEFPAS per rilanciare il consorzio questo il messaggio del presidente Gianmusso ma sulla vicenda sentiamo adesso le dichiarazioni del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta Presidente come si può salvare la situazione del consorzio universitario nistano considerato che adesso mangano i fonti che dovrebbero arrivare dalla provincia ovviamente per ora le province sono in una situazione difficile lo salviamo o no questo consorzio? se si come? Consorzio di Castanistate universitario si salverà e verrà anche rilanciato ne abbiamo parlato col sindaco abbiamo in cantiere una serie di soluzioni che stasera illustreremo ai sintaci al commissario della provincia c'è anche l'assessore all'istruzione però una cosa che voglio rassicurare è assolutamente l'impegno totale della regione che troverà il modo come finanziare assolutamente la struttura ma non solo quello di Castanistate noi sulla finanziaria rappresenteremo degli ambientamenti specifici proprio che riguarderanno i consorzio di Castanistate quello di Agrigento quello di Ragusa e di Trapani perché noi assolutamente crediamo nel valore della promozione culturale e le difficoltà delle province in gran parte derivate dobbiamo essere anche molto onesti dai tagli ai trasferimenti statali perché non è stata la regione che ha tagliato i fondi alle province i fondi alle province li ha tagliato lo Stato e noi ci siamo trovati in una situazione di ridotti trasferimenti nei confronti della regione e di ridotti trasferimenti nei confronti delle province però io ritengo che le province non possono tagliare sulla formazione sull'istruzione, sulla cultura ci sono due punti per me inabbattibili che sono quello della istruzione assolutamente per la quale non si possono tagliare fonti e quello della solidarietà sociale Cambiamo ancora argomento giro di vite per gli indisciplinati del conferimento dei rifiuti tolleranza zero specialmente per chi getta spazzatura nei canali sentiamo Assessore, l'amministrazione comunale prende provvedimenti anche nei confronti di quei cittadini indisciplinati che continuano a conferire in maniera scorretta i rifiuti specialmente all'interno dei canali procurando un grave danno L'amministrazione ha deciso di concerto tra l'assessorato del territorio ambiente l'assessorato controllo del territorio ad avviare delle azioni di monitoraggio e controllo attraverso le verifiche degli stessi rifiuti scaricati la provenienza per arrivare al singolo utente che li scarica di fatti abbiamo notato già che parte di questi rifiuti sono rifiuti che derivano da attività commerciali quindi c'è un'attenzione particolare ma c'è ancora un'attenzione particolare a tutte quelle discariche abusive perché non permetteremo più la discarica indiscriminata di rifiuti che verrà pulita come previsto da legge Chiederete di attivare anche delle indagini in merito cioè state cercando di capire quale sia la provenienza di questi rifiuti addirittura L'intenzione è quella di risalire tramite il codice a barra i servizi di tracciabilità che sono sul prodotto al grossista almeno che ha venduto quel prodotto e se è possibile trovare direttamente il dettagliante che ha comprato la cosa se si tratta di esercenti di attività commerciali quelli sono facilmente individuabili successivamente faremo una riunione con tutte le forze dell'ordine e soprattutto con il proprietario dei canali di scolo che sarebbe il consorzio di bonifica per capire quale attività possiamo istituire per un controllo più attento di questi due canali che sono fondamentali per la città di Gela Quale potrebbe essere il motivo per il quale un cittadino da Gela debba andare in periferia, in città o comunque nei terreni limitrofi al comune della città di Gela per conferire rifiuti e quindi procurare il formarsi poi di discariche abusive? Perché il cittadino non riesce a differenziare non è organizzato probabilmente quando è stata attivata la raccolta differenziata è stata fatta in maniera improvvisata non effettuando gli appositi istituti di formazione cercando di formare il cittadino ad arrivare alla raccolta differenziata applicando la raccolta differenziata quartiere per quartiere e monitorarla quindi noi ci ereditiamo una condizione della precedente amministrazione che non ha saputo o non ha voluto questo poi insomma sono stati i cittadini a deciderlo organizzare per bene la raccolta differenziata dei rifiuti Un importante appuntamento è previsto a Gela per l'ultimo venerdì del prossimo maggio vediamo in questo servizio di cosa si tratta è stato a Gela il presidente nazionale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per annunciare che si svolgerà nella città del golfo alla fine di maggio nell'ultimo venerdì l'assemblea nazionale dell'associazione Angopi che lui stesso rappresenta un'occasione importantissima per offrire a Gela la ribalta nazionale promuoverne l'immagine ma nello stesso tempo trovare soluzioni alle problematiche che riguardano la portualità locale è stata annunciata la presenza oltre che di 90 rappresentanti dei porti italiani di importanti personalità della politica nazionale e internazionale questa iniziativa si va a Gela perché è stata fortemente voluta dal gruppo ormeggiatori di Gela e in modo particolare dal suo capogruppo l'ottimo Vincenzo Cassiana e si coglie questa opportunità come si diceva per aprire una finestra alle istituzioni, ai decisori pubblici sulle questioni che attanagliano quindi cogliere questa opportunità per rappresentare le questioni che attanagliano la portualità gelese L'evento è stato fortemente voluto dal gruppo ormeggiatori Gela È stato importante che l'Angopi abbia accettato di fare la sua assemblea quest'anno nazionale a Gela perché si parla di un'assemblea nazionale dove si toccheranno tutti i temi della sicurezza a livello portuale sia nazionale che europeo avremo circa 90 rappresentanti dei porti italiani nonché autorità del nostro governo o loro rappresentanti che parteciperanno a questi lavori quindi sarà una finestra importante per la nostra città e qualcuno si renderà sarà visibile il nostro porto o le condizioni in cui versa quindi approfitteremo di questa assemblea per far vedere le condizioni della nostra città Diremo che Gela non ha un porto non ha mai avuto un porto a livello sia commerciale che industriale industriale forse qualche anno fa ma adesso non esiste più quindi diremo che Gela non ha un porto e sposteremo l'attenzione della loro assemblea qualche volta anche sulla nostra città Soddisfazione è stata manifestata dal comandante della Capitaneria di Porto di Gela Pietro Carosia Ritengo che sia un'occasione importantissima un trampolino di lancio per Gela questo convegno che avremo a maggio dell'Angopi penso che potremo sfruttare il nostro vantaggio intanto le bellezze del nostro territorio e poi per poter ulteriormente mettere far portare a conoscenza delle nostre problematiche importanti politici a livello anche europeo quindi sono sicuro che sarà esclusivamente un vantaggio per Gela avere il convegno dell'Angopi qui da noi Sarà allestita una mostra fotografica di paramenti sacri nel decimo anniversario dalla dipartita di Don Franco Cavallo presso i granai di Palazzo Ducale dal 16 al 24 gennaio prossimo l'evento è a cura di Franco Pardo in collaborazione con Croce Attardi esporranno gli artisti Gina Pardo e Pino Polara la mostra patrocinata dal comune di Gela potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale presentato alla scuola Ettore Romagnoli di Gela il libro di una giovane scrittrice che dal dramma vissuta a causa della perdita di un amico per un incidente lascia un profondo messaggio ai suoi coetanei vediamo Incontro alla scuola media Ettore Romagnoli di Gela tra le terze classi e la giovane scrittrice che ha raggiunta per la presentazione del libro Un saluto dal cielo edito dalla casa editrice Albatros sono tanti i messaggi che vorrei inviare temi fondamentali della morte molto spesso non vista nella maniera giusta del valore della vita della famiglia dell'amicizia quindi quei temi che molto spesso a una certa età vengono sottovalutati l'idea è nata seguito di uno spiacevole incidente di un mio amico che è morto e quindi da qua ho sentito il bisogno di far sentire la mia voce è un onore poter lasciare un messaggio poter spingere gli altri a realizzare il proprio sogno L'incontro organizzato nell'istituto diretto da Sandra Scicolone è stato realizzato in collaborazione con il Kivanis Club di Gela preseduto da Emanuele Salafia Allora il Kivanis è un club service che si occupa che lavora nel territorio e si occupa prevalentemente di problemi legati ai ragazzi e quest'anno anche agli adolescenti aver saputo che una ragazzina ha iniziato penso a scriverlo da 15-16 anni quindi il libro si sia cimentata nell'arte nobile della scrittura scrivendo il libro addirittura facendolo pubblicare è un'idea che ci ha ammaliati per cui quindi abbiamo voluto far conoscere quindi al territorio quindi la presenza e l'esistenza di Chiara e la presenza quindi del suo testo perché sia un monito e uno stimolo quindi a ragazzi quindi a fare quindi altrettanto io quest'anno girando per le varie associazioni quindi locali mi sono reso conto quindi che abbiamo un territorio ricco di eccellenze ma ricchissimo di eccellenze in cui i ragazzi fanno in effetti quindi da padrone e manifestare e far conoscere l'eccellenza secondo me è un dovere più che una situazione morale amore e verità si incontreranno giustizia e pace si baceranno e questo è il tema dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano che prenderanno il via sabato prossimo e si concluderanno mercoledì 20 gennaio presso la parrocchia di San Sebastiano Martire guidata da Don Filippo Salerno ogni giorno alle 18 è prevista la celebrazione eucaristica in onore del santo e la riflessione amiletica Salviamo il salvabile è la commedia brillante che la compagnia Sipario 21 e l'associazione Demetra porteranno in scena sabato 16 gennaio prossimo alle ore 21 al teatro Eschilo di Gela la regia è affidata a Maurizio Nicastro Continuano gli appuntamenti col grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato l'inizio dell'evento è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 oppure chiamare i numeri di telefono stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crocifisso Ragona Domenica 17 gennaio prossimo alle 19 concerto del trio Antonella Callea al flauto Lucia di Mora al violino Salvatore Gaglio al pianoforte Riprende l'esperienza dei gazebo informativi di FIAB Gela sezione nanocicli preseduta da Valentina Ferrigno sarà un'occasione per i cittadini per incontrare la FIAB sul territorio per conoscere tutte le attività legate alla promozione della ciclabilità urbana della mobilità sostenibile la salvaguardia ambientale in città e a livello nazionale nell'occasione si potrà ritirare il calendario delle attività 2016 e quanti lo desiderano potranno iscriversi o rinnovare il tesseramento alla FIAB Gela l'appuntamento è previsto per domenica 17 gennaio prossimo dalle 11 alle 12.30 presso l'area pedonale dei Muretti di Macchitella un tripudio di ricordi con suoni, colori, profumi e vissuto reale e questo è il viaggio che l'attore siciliano Sergio Vespertino è intrapreso ieri sera con il pubblico del teatro Eschilo di Gela una Palermo inedita vissuta e osservata con l'incanto di un Sergio Bambino che esplorava la vita vivendo la sua amata Palermo uno spettacolo avvincente che ha conquistato la platea attenta e divertita alla quale lo spettacolo ha offerto tante risate ma anche molti momenti di riflessione un grande Sergio Vespertino in scena lo abbiamo incontrato Dal 1990 a partire dai 3 a un quarto ne abbiamo fatta di strada abbiamo anche incontrato il grande Tornatore che è tornato sul grande schermo con si dice un'opera che farà molto discutere Sì, corrispondenze Sì, sì, sì ho seguito anche io la vicenda e ho avuto il piacere e l'onore di poter anche lavorare con lui che è stato anche un gran bel lavoro Baria mi ha fatto anche vedere il lato della pellicola visto sotto la parte di Tornatore che lui dipinge ogni scena ogni singola scena quindi il tempo diventa un eufemismo una cosa meravigliosa Dal cabaret al teatro il passo è stato abbastanza breve dalle risate poi invece alla formazione dell'artista a 360 gradi abbiamo studiato molto Sì, devo dire che però comunque tutto serve nella vita perché aver fatto dieci anni di cabaret o quantomeno situation comedy con i compagni di viaggio di 3 e un quarto e grazie alla formazione anche di Pippo Spicuzza che ha fatto 13 anni in Radio Rai e tutto quanto c'è stato un momento di stacco e di andare al teatro stabile di Catania quindi lavorare con Turi Ferro con Tuccio Musumeci con i grandi con Pattavina con Anna Malvica con Romano Bernardi tutte persone che mi hanno formato anche via più sotto l'aspetto teatrale alla fine ho shakerato le due cose le due entità ed è uscito fuori una specie di teatro trasversale teatro comico dove si ride così tanto quanto quasi come un cabaret però ci si riflette perché c'è un percorso narrativo una storia se dovessimo creare un parallelismo che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto rispettivamente in questi 26 anni il palcoscenico e la Sicilia tolto nulla è sempre un acquisire e se tu sai ben assorbire quello che c'è attorno a te è tutto solamente che ti può tornare utile come farina del tuo sacco poter leggere un libro poi non diventa più il libro solamente di quell'autore ma diventa anche il tuo libro così è la storia la vita il giorno il quotidiano io parlo molto del quotidiano e poi piace anche la musicalità perché come vedete qui accanto a me ho un maestro musicista compositore che è sempre in scena con me dal 2004 fino ad oggi per parlare sempre e sottolineare e far vivere quindi dare anche un tempo un tempo musicale a tutto quello che vi ho detto Qual è la battuta siciliana che funziona di più al nord? assolutamente non è una parolaccia quello che funziona è solamente la cadenza perché qualunque parola volessi dire ha una sua cadenza per esempio anche per dire guardate che è brutto appena dico vedete che è brutto cioè se a seconda vedete che è brutto può diventare anche un tormentone lo è diventato anche questa stessa parola un saluto particolare per i telespettatori di Canale 10 non vedo l'ora che riusciate a scavalcare quel vetro che c'è tra me che si frappone fra me e voi e provare a venire qua con la fantasia ce la potete fare io dico sempre che qualunque cosa voi siete lì in una situazione di passività potete solamente pigiare un bottone ma qua dentro il teatro dal vivo lo spettacolo dal vivo è tutta un'altra cosa quanto è difficile per un compositore lavorare con un attore comico ma io dico che è facilissimo poi Sergio è veramente una persona straordinaria e quindi un viaggio che dura da anni speriamo duri almeno altri questi è veramente magnifico ogni volta creare delle musiche per gli spettacoli è una una sfida una sfida nuova vi è mai capitato di litigare su alcuni motivi? noi litighiamo sempre no no mai mai tutto quello che scrivi va bene a lui? no sai cos'è che a volte a volte a volte nasce io scrivo poi arriverà il momento che ci dobbiamo incontrare e io faccio vedere tutto questo che ho scritto e lui lì deve andarci a trovare una musicalità e me la propone io quello che lui mi ha proposto alcune cose possono andare bene alcune magari neanche le avevo immaginate così belle perché poi escono fuori ancora più belle e allora può esserci solamente il guizzo ci può essere insomma giochiamo a fare l'onda quindi un'alchimia da dieci e lode questo lo dovrò dire allora fra di voi però noi siamo felici per noi c'è ciò più bello infine c'è l'informazione cinematografica è uno per tutti il film in proiezione al cineteatro antidoto di Macchitella Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17 e 30 19 e 30 e 21 e 30 con questa notizia è tutto grazie per la gentile attenzione vi ricordiamo che notizie e servizi approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti